Vado a prendere papà, aspettatemi qua. Redeci, ma tu dove vai? Ma tu resti qua perché ieri adesso dobbiamo parlare. Ti sembra bello? Non dico, ti sembra bello quello che ha fatto a Maria? A Maria? Che le ha fatto? Ma chi? Io, numero uno, non le piace. Numero uno, non le ha fatto niente. Ultimo in fundum, le piacesse, la conoscesse. Non le piace, si asterisce. Ma come cazzo parli?